Oggi faremo una roba ragazzi che mi sto già pentendo perché impazziremo Stiamo facendo una sfida molto particolare Che si chiama Social Distancing Che è una Dark Ops su questo gioco Che consiste nel non essere toccato dagli zombie Fino a round 20 Vi giuro mi sto cagando in mano ragazzi Ve lo giuro Peraltro a sto punto bisogna di tanti colpi in canna Perché non ti fai la classe con due shotgun No ragazzi no 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 non è vero Non è vero Bravo bravo Se non coglierevo il video No 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 iniziamo 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 Primo tentativo round 8 ragazzi è andato molto bene È andata molto bene Giole stai bene? Sì sto bene Giole ti do gli occhiali che sembrano tutte le ok ragazzi Già questa cazzo di sfida è difficile Se io tolgo gli occhiali io non vedo Ok Cioè non sono mai stato concentrato così tanto in vita mia ve lo giuro Ok ok round 6 ne mancano 14 boys Ragazzi io sento lo sentite sto odore? Lo sentite? È l'odore della sconfitta mi sa Sì sì Arriva 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 Figa ragazzi c'ho una caga di lusso Di brutto No 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 ragazzi non è vero 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 No 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 Ok Ok Bella gioia ti seguo da quando eri simpatico e carismatico Ma no No Sta challenge ho fatto 17 E meno male E meno male che non ero in line Perché direi che mi avrebbero bannato è poco Grazie per tempo No ragazzi mi han toccato Ragazzi mi han toccato Sono stato un coglione Puttana troia mi han toccato lo zombie Voi non l'avete visto ma tipo si è diminuita la corazza Cioè l'ho sentito anche Ah Impazzisco Impazzisco Sì il cane mi han toccato Stai bene? No non sto bene Cioè raga ok Questa è la volta Cos'è sto odore? È la volta giusta? Sì sì è l'odore della volta giusta boys Cos'è che hai detto? Che compito notarlo Ah posso farti una domanda A te quanto giochi a zombie? Fissile perché Eh ok Allora io su zombie ci passo il giorno La notte E tutta la mia vita La mia fidanzata litighiamo perché io sto troppo su zombie Ed mi dici Compro un'altra arma? Già 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 Nel Durante il video io dico Ragazzi questa sera ci vedremo in live su twitch con la mia fidanzata Che faremo la No 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 ragazzi sono un coglione Sono un coglione Sono un coglione No 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 ragazzi Sono molto sciocco perché mi son dimenticato che non c'avevo la No 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 ragazzi questa è grevissima Questa è grevissima Ragazzi questa è grevissima No 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 ragazzi non è vero Non è vero Già potresti dire I could disappear to me Dai please ok I could disappear to me I mean I'm a mistake Ok ci siamo ci siamo Eh ci sta No 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 Mamma mia Mamma mia No 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 ragazzi Cos'ho detto prima Cos'ho detto Guardate come Dovete stare comunque attenti Perché sennò vi tocca la round 5 Vi tocca la round 5 Ragazzi la round 5 Eh l'oletta io non mi ha caccio di striscio Eh warrior devi capire Che una volta Tipo te stai facendo un discorso Che non mi piaceva Allora sul disco Ho messo il tuo volume a 1 E quando tu parli non ti sento No scherzo Scherzo assolutamente Devo riuscire ad arrivare a 250 Dei secondi materiali Che così almeno mi prendo Di questi materiali Che così almeno mi prendo Oh no No ragazzi Non l'avevo visto No 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 Stavo andando tutto da dietro Devo tenermi uno zombie Andavo a prendermi Le bivete che mi servivano Continuovo là C'avevo i soldi anche per pagare L'altra volta Vabbè Orca troia il megaton No non ci credo 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 No ragazzi Cioè dai Cioè dai Cioè dai ragazzi Ma queste sfiga Queste sfiga Vedete anche perché Volevo tenermi Cioè dai ma stai scherzando Dunque vabbè ragazzi Ultimissimo try Ultimissimo try No pochissimo Quanto non sono Ok round 7 boys No ragazzi Attivo il pack a punch E corro immediatamente A far pipì Perché me la sto facendo sotto Giore non si è lavato le mani A mettilo SOS Ma aspetta Forse riesco anche a prendere la speed Bella 3000 Minchia bomba Stavolta ragazzi Va che esce molto meglio Secondo me Perché ho già Il deadshot dai kiri E la speedcaller Le ho già comprate Quindi non devo andarmene Dalla posizione in cui sono Basta che arrivo a 4000 punti Che mi prendo la stamina E rimango là tutto il tempo Ah il megaton è spawnato là però Il megaton è spawnato Ok il megaton Ok Ok Eh mo si divide in due il megaton Ok megaton fatto Megaton fatto Megaton fatto Megaton fatto Megaton fatto Mamma mia Mamma mia Boyz Mamma mia Mamma mia ragazzi E' una volta buona Cioè stiamo un attimo attenti Stiamo diversamente attenti Attenzione C'ho 15.000 esatti Così paca punch Un'altra volta il pompa E vado a prendermi Vado a craftare l'elicottero Minchia mi piace Sta cosa che c'è anche Perché ti mette l'ansia Perché io sto morendo dall'ansia Veramente Con un elicottero Calcola che fai più o meno fuori 50 zombie E un megaton Riesce a far fuori Come tempo Ragazzi ve lo dico Se ce la facciamo Caricheremo Gli highlights Su youtube Assolutamente Ok round 16 Round 16 boys Round dei cani Round dei cani Round dei cani Perfetto Round dei cani top Perché così almeno Siamo già al 18 E devo fare altri due round Ok 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 Cani fatti Cani fatti Cani fatti Ragazzi Pabbiamo sti cuori Oh 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 Ok Questo è il zop Oh il cani Ok 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 Round 19 ragazzi Round 19 Manca solo questo round Ragazzi Manca solo questo round Spammiamo sti cuori Ragazzi Manca solo questo round Ragazzi Ragazzi Oh la diga L'anello E che l'elicottero L'anello di fuoco E l'elicottero Sì sì Io direi come prima cosa Io questi quasi userei l'elicottero Allora Subito l'anello di fuoco Subito l'anello di fuoco Pieno a vedere gli zombie E poi subito l'elicottero Sti cazzi Ringrazio comunque tutti I spettatori live Se ce la facciamo Allora Nello di fuoco attivato Ok Ok Nello di fuoco finito Andiamo in elicottero Sti cazzi Cioè non rischiamo Non rischiamo Ce l'ho Ok E il fatto è che Sono tutti dentro casa Ma gli zombie Ok 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 Spamma Spamma Vi manca un round Spamma Ok Vai 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 Round 20 Round 20 Fatto Fatto ragazzi L'abbiamo fatto L'abbiamo fatto L'abbiamo fatto L'abbiamo fatto ragazzi 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 L'abbiamo fatta Ragazzi 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 Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta GG ragazzi GG Dopo 2 ore e 21 in live Dopo 8 tentativi Ragazzi ce l'abbiamo fatta Urlo del sium Clipping chat Salutiamo Salutiamo tutti quanti Quelli della live Distanziamento sociale Boys Fatto Ragazzi se volete altri contenuti di qualità Venite a seguirmi su Twitch ragazzi Perché abbiamo scritto la storia oggi su zombie La storia zombie d'Italia Siamo i Goat E noi la trovate in descrizione il canale Lasciate un bel like Un bel commento E ci vediamo alla prossima Un bacino da gioia Sauce Sauce